C'era una volta un uomo che aveva due figli e al primo figlio un giorno disse va a lavorare la vigna e il figlio disse no ma dopo ci ripensò e andò. L'uomo disse la stessa cosa anche all'altro figlio il quale rispose vado subito ma non andò. Quale dei due figli ha obbedito al padre? Quale dei due figli ha obbedito al padre?